... Severo Martini, assessore all'urbanistica del Comune di Lecce. Questi piani di rigenerazione urbana, in particolare il Parco delle Cave. Sì, è un'impresa importante che il Comune ha intrapreso. È diventato un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale. Perché è una maniera nuova di fare urbanistica, l'urbanistica partecipata, alla quale noi abbiamo aderito in pieno, d'accordo con l'assessore Barbanetto e con tutto l'assessorato. È un percorso che abbiamo intrapreso insieme. L'idea parte dalla ricodificazione di un'area strategica per Lecce, le cave di Marcovito, un'antica stazione romana in cui erano presenti queste cave, che stiamo rigenerando con un progetto molto ampio. perché passa dalla ricodificazione delle cave in senso stretto, con la ricodificazione anche della masseria Tagliatelle, che è una masseria di 400 molto bella, e si espande a tutta la zona dove è intervenuto anche in questo progetto l'architetto Sisa, quindi di peso. Un nome. Un nome, una garanzia diciamo. e che va ad arrivare poi, attraverso la ricodificazione di tutto il quartiere Leuca, anche ad un progetto di ribaltamento della stazione, per cui cambia completamente la polarità del traffico dentro Lecce. Quindi una cosa davvero importante per la nuova Lecce del futuro, nel quale stiamo preparando il piano di Lecce. E la Casa del Parco, questo centro polifunzionale? La Casa del Parco, sono già proprio a fianco a questa ristrutturazione della masseria Tagliatelle, e ci sarà tutta questa area di aggregazione in cui riusciremo a unire tutta una serie di servizi e sarà il cuore pulsante di questa nuova area. Grazie. 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 Grazie.